La tecnologia ibrida Plug-in permette di ricaricare la batteria collegandola alla rete elettrica. Per la ricarica dalle colonnine di ricarica, l'auto è dotata di un cavo apposito, compresa Mennekes. Per caricare la batteria, si procede collegando il cavo all'auto. Quindi si attiva l'erogazione di corrente. Infine, si collega il cavo alla colonnina. Per scollegare l'auto dalla colonnina, innanzitutto si interrompe l'erogazione della corrente. Quindi si scollega il cavo dalla colonnina. Infine, si sblocca la spina con il comando di apertura dell'auto presente sulla chiave e quindi si scollega il cavo dall'auto. Grazie. 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 Grazie.